eccoci qui ciao ciao Paolo buonasera siamo qui sono appuntati di Carosello is back sei in ferie ci tranquillizza perché ci avvicina in Natale tu Paolo sei riduce da una vita on life con Floridi come è stato? bellissimo questo tema poi sono intervenuti i ragazzi del New Trend Manifesto che stanno scrivendo il manifesto dell'età ibrida bellissimo siamo partiti con una tesi che abbiamo presentato al professore perché comunque insomma volevamo essere come dire benedetti dal suo pensiero abbiamo fatto riferimento proprio nella tesi di apertura a un suo scritto quando proprio nella verde e il blu lui fa riferimento alle mangrovie no? poi in questo momento le mangrovie stanno ritornando abbastanza spesso come tu sai nella mia nella mia e e questa cosa delle mangrovie è bellissima nel senso che sono è una vegetazione che cresce tra l'acqua dolce e l'acqua salata quindi nelle intersezioni di di mari e fiumi no? e pensa che noi siamo partiti con questa tesi riprendendo un suo scritto ma sai quando in un libro questa cosa è scritta di passaggio in realtà lui ne sta facendo un l'epicentro di una sua riflessione filosofica tant'è che la sua lezione di stasera è iniziata proprio da dalle mangrovie quindi senza che lui avesse letto noi e che noi avessimo letto la sua presentazione quindi comunque ha il cuore Iguana Mangrovia che ricordiamo è vero è vero è vero Iguana Mangrovia uno dei nostri sponsor dell'edizione Carosello Lockdown è vero come dimenticarlo io ribadirei però per quante per chi fosse collegato sì le regole di ingaggio mi sembra una bella cosa diamo diamo le regole le facciamo dare da Paolo perché io non le ricordo mai ma sono molto semplici sono molto semplici si parla di libri e si parla di libri degli amici quindi che nessuno ce ne voglia noi vogliamo dei raccomandati in maniera assolutamente trasparente i libri che presentiamo preferiremmo venissero acquistati all'interno di librerie indipendenti circuiti di librerie indipendenti ce ne sono cercateli perché è così perché è un momento in cui c'è bisogno di questa cosa e quindi possiamo aspettare un giorno in più per avere il libro sulla scrivania settimana scorsa abbiamo presentato proprio uno di questi progetti e basta il libro deve essere in atomi sulla nostra scrivania il giorno in cui andiamo in onda questo non è accaduto per Antonio Pavolini che ci ha mandato solamente un volgare pdf il libro in atomi quindi questa sera Pavolini non c'è quindi ve lo diciamo subito perché ha tradito una regola fondamentale di questo format e non avendo noi il suo libro abbiamo rinunciato alla sua presenza ma abbiamo un altro ospite abbiamo un altro ospite abbiamo un altro ospite che evidentemente ah scusami Sergio Stenco dice che non hai messo il logo in grafica sei veramente allora il logo c'era in grafica ma è a un certo punto sparito ringrazio Sergio per avermelo ricordato adesso lo trovo immediatamente tra Sergio e Valentina tra Sergio e Valentina siamo a sandwich tra due rompicazzo di proporzioni allora ne ho messi due di logo in grafica ho messo quello che non abbiamo utilizzato l'ho trovato in alto a destra e quello che invece utilizziamo in basso a destra quindi potete scegliere anche voi il logo disegnato da Sergio quello in alto a destra era bianco su bianco abbiamo pensato bene ah volevamo anche lanciare un altro un'altra regola noi siamo sfacciatamente per il product placement quindi come siamo in un momento complicato qualunque prodotto voi vogliate mostrare durante questa diretta voi ce lo mandate e noi possiamo mangiare con un biscotto sgranocchiare delle noci moscate bere del vino io sono a stemio ma per questo mi presto molto volentieri purché chiaramente ci sia un conquibus economico che chiaramente devolveremo in beneficenza altrimenti grandi grandi pecette su ciò che è ovvio è ovvio che è molto cioè che questo lo sapete è uno delle delle proposte più sfacciate che esista ma noi cerchiamo di alzare sempre l'asticella perché non esiste dignità diciamo nella comunicazione se non è etica quindi noi siamo etici ma privi di ogni tipo di dignità siamo ecco siamo etici immorali io siamo etici immorali quindi io direi se vuoi possiamo andare avanti fino alle undici così no ma pensavo di portare invece visto che Antonio Pavolini non ha seguito le regole di ingaggio quindi non possiamo ospitare questa sera portare il sostituto che però ha presentato invece un progetto che ci piace molto mamma mia ciao Andrea ciao Andrea che ha un progetto bellissimo Andrea scrive diciamo si definisce come uno scrittore liquido e qui questa sera è per raccontarti ma liquido liquido nel senso che suda tanto cioè nel suo io lo bevo quindi ah ok per il vino che non bevi tu io lo bevo ok ma posso fare un inciso vai lui è un super raccomandato cioè lui è raccomandato al cubo eh perché eh intanto io l'ho conosciuto in Holden non era tra i miei studenti e e infatti è qui e ci siamo conosciuti dopo un suo pitch che a me è piaciuto tantissimo veramente tanto e quindi sono andato a disturbarlo e poi ho creato delle connessioni successivamente che lui ha meritato perché è un ragazzo veramente in gamba è una bellissima penna ma soprattutto vogliamo dire il motivo per cui io ho un ho un debole per Andrea Andrea devi sapere che è vice campione italiano di una certa categoria di biliardo cinque birilli ed è sappiamo che il biliardo è una cosa che sta diciamo nel nostro cuore e nel suo retro bottega esatto e lui è il mio maestro di biliardo cioè noi possiamo dirlo Andrea vero? sì si può dire non c'è niente di cioè lui è giusto esplicitare perché si è raccomandato in questo trasmissione cioè quindi c'è questa cosa di reciprocità di maestritudine io sono stato maestro in Olding lui diventa maestro mio è una roba è quasi così molto molto bella questa cosa ma Andrea è qui perché ha un progetto che cerca di rendere la sua scrittura liquida più solida giusto speriamo speriamo siamo qua per questo siamo qua per questo vai Andrea allora forse Tango Calcistico è il mio primo libro è in questo momento è in campagna di crowdfunding quindi in realtà nessuno di voi due ha una copia vera perché non ce l'ho neanche io sulla mia scrivania però giuro che la avrete Paolo l'avrà su Biliardi Tango Calcistico nasce da un'idea profondamente radicata in me che il calcio quindi lo sport e il tango quindi la musica sono due linguaggi universali capaci di creare emozioni ad ogni latitudine e longitudine del mondo sostanzialmente e oggi forse la mia idea ha un po' più di solidità perché è doveroso salutare Pablito Rossi che ha regalato a voi più che a me ma a tanti almeno un'estate di serenità quella dell'82 dove con i suoi gol è riuscito a ricostruire lo specchio dell'identità nazionale italiana che in quel momento era abbastanza frammentata dal terrorismo e dalla paura tango calcistico è la storia di Carlos Gardel l'ideatore del tango moderno è la storia di Victor Hugo Morales il più grande relator argentino o meglio della nazionale argentina e poi c'è un mix di Alfredo Di Stefano e Diego Armando Maradona sono delle piccole biografie delle fotografie di vita che personalmente credo possano insegnare tanto e il tutto è unito da una Buenos Aires accogliente perché io credo che l'Argentina rappresenti un po' tutti i sud del mondo e in qualità di sud del mondo è capace di fare di ciò che arriva dal mare quindi dalle navi una ricchezza tant'è che il calcio arriva in Argentina dalle navi inglesi il tango arriva in Argentina dalle navi e oggi sono due dei colori principali del dipinto identitario argentino e questa secondo me è la vera motivazione che mi ha spinto a scrivere tango calcistico la necessità davvero di raccontare che esiste un porto sicuro che è quello di Buenos Aires per me per le persone che si sentono sole hanno un talento da esprimere ma che bello racconto ma che bello se scrivi diciamo la metà di quanto riesci bene ad esprimere con le parole diciamo che è un progetto vicino davvero veramente affascinante è bello noi abbiamo messo il link a book a book qual è l'obiettivo Andrea l'obiettivo l'obiettivo è raggiungere i 200 preordini in 100 giorni che sono diventati 126 perché book a book ha fatto il regalo di Natale a tutti gli autori i 200 ordini in 100 giorni io in 5 giorni sono al 53% lo sai che stasera vai in overbooking vero? overbooking vai stasera tu non hai idea di cosa siano capaci i caroseller quindi non fate mai niente per noi dico a voi caroseller fate sta cosa cioè fate un preordine non avete mai fatto niente se non mettere cuoricini sono capaci tutti a fare i leoni da tastiera quindi un preordine per una volta fate con il dito una cosa che ha un senso allora io devo dire devo dire Giovanni che questa fascia oraria ci rende decisamente più devastanti perché arriviamo stanchi esattamente per cui io terrei le 9 come orario di collegamento poi lo mettiamo ai volti però insomma questo spostamento sulle 9 mi piace molto di più per questo per questo tipo di registro così così da Fight Club ascoltami Andrea vai dammi la sinossi del libro sono realmente tre fotografie di vita distinte unite dal dal linguaggio argentino Carlos Gardel è l'autore di Poruna Cabeza che è uno dei tanghi più famosi del mondo si apre con il primo incontro con il maestro quindi c'è una figura di un maestro e poi ci sono delle piccole cose che succedono nella sua vita idem funziona con Victor Hugo Morales cioè si apre con il primo relato di Victor Hugo e poi ci sono delle cose che succedono nella sua vita idem per Alfredo Di Stefano e Diego Armando Maradona si parte dal primo tocco al pallone e poi succede qualcosa non c'è un vero intreccio fra loro c'è l'Argentina in mezzo vi faccio un piccolissimo spoiler in Argentina per dire a qualcuno che è il migliore in quello che fa si usa dire Sos Gardel Sei Gardel cioè Gardel è arrivato a quel punto di talento ed espressività che è diventato un aggettivo come un po' è successo per Fellini è la prima volta che Victor Hugo Morales si presenta in radio e chiede di fare un provino il direttore della radio ascolta il provino si ferma e dice ragazzo Sos Gardel Sei Gardel bellissimo e questa è un po' veramente bellissima ma che bella sta roba non è ancora di leggere Andrea a grandi scherze contiamo sul fatto che chi ascolta Andrea così come quelli che ci seguono su Caroselli is back faccia un preordine perché è una scommessa secondo me vinta è un bel modo per ascoltare una narrazione la storia abbiamo intravisto è veramente molto molto bella è profonda e quindi niente buon viaggio verso il porto della pubblicazione questa cosa della questa cosa della ricchezza che arriva dal mare per sai che ti sei giocato tutta una parte di elettorato lettorato anzi che però chi se ne fotte noi andiamo sull'altro versante andiamo verso quelli che sono realmente convinti che le ricchezze possano arrivare dal mare e nei porti quindi Andrea davvero davvero grazie concedetemi un ultimissimo un ultimissimo aneddoto si tanto Pavolini non c'è non ti preoccupare prima di essere un libro tango calcistico è stata una rivista quella che ho picciato in Holden quindi tutto è partito da là ma prima ancora tango calcistico è stato un viaggio perché io mi sono innamorato di un'argentina che avevo solo sentito raccontare e quindi nell'estate fra il primo e il secondo anno di Holden ho preso tutti i soldi che mi erano rimasti pochi dopo la Holden e ho detto va bene li brucio così e sono andato in argentina con quella che era la mia ragazza e io quando ho preso il biglietto ho detto vabbè vado a vedere quanta distanza c'è fra i racconti che ho ascoltato e la realtà poi però ho deciso di portarmi qualcos'altro a casa e di provare a tirare fuori il massimo da questo viaggio ho preso tutti gli articoli che erano stati scritti sul Boca sul River sul calcio argentino ne ho trovato uno di Baricco in un Barlum dove Baricco ringrazia un certo Guilermo di una radio di Buenos Aires per avergli fatto incontrare Victor Hugo Morales il relator del secolo di Maradona e io allora cerco tutte le radio di Buenos Aires cerco tutti i Guilermo di Buenos Aires ne trovo uno che lavora in radio a Buenos Aires Guilermo Piro gli scrivo su tutti i social e al primo giorno di Argentina incontro questo signore che non mi conosceva dovevamo prendere un caffè di mezz'ora è diventato un caffè di cinque ore e dopo cinque ore mi fa vabbè ragazzo mio dai settimana prossima ti faccio incontrare Victor Hugo Morales quindi ho conosciuto Victor Hugo Morales grazie ad un uomo che avrà visto non so che cose in me ma sostanzialmente ha aiutato qualcuno che veniva dall'aereo passando il mare un po' dal mare diciamo bello bello grazie per questo backstage ciao Andrea ci vediamo ci vediamo al tavolo io e te ciao Andrea ciao ciao grazie bello 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 il progetto bello spedai speriamo che anzi sono convintissimo che riuscirai a riuscire in breve solo che adesso abbiamo questo problema che non dobbiamo riempire tre quarti d'ora allora essendo un po' un po' come l'argentina un porto di mare carusel is back io direi di vedere se c'è qualcuno da tirare su come dire dalla dalla regia e chiunque sia lo farei parlare non so se sai che ho un'idea ancora più perfida sì che qual è io siccome so che Antonio è nel backstage penitente lo tirerei su sì e lo terrei in mute cioè noi parliamo del suo libro ma lui sta zitto eccolo qua eccolo qui allora come si come 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 si può dire ecco Antonio il noto Antonio Pavolino oppure ecco Antonio Pavolino non abbiamo bisogno di presentazioni no sono due delle versioni che sono ho letto in rete quando che sono più o meno contrastate quando si parla di autori e sono indifferenti e che è autore di questo libro unframing you are on mute allora qua sotto c'è scritto everyone can see and hear you perché noi ti siamo amici perché noi ti siamo amici mi fa pensare mi fa pensare che il carissimo editore l'edizione Nicola Cavalli che si sta intanto cospargendo il capo di cenere perché non ha mandato in tempo le copie non le ha mandate neanche a me nel senso che io per avere una copia cartacea ho dovuto ordinare una copia su Amazon e questo ha fatto impennare del 1000% facendo vedere aspetta no questa copia che ho ordinato si trova a 150 metri da qui da dove vi parlo in un casotto del portiere del mio condominio e quindi è l'inchiuso se no ve l'avrei fatto vedere il capo però è l'unico piano non è una libreria indipendente però per me è bello anche questo parliamo di un libro che forse è uscito quindi come dire tu hai già fatto la presentazione di un libro che non è mai stato scritto quindi per te è una seconda volta Giovanni parliamone è una seconda volta però scusate voi voi peccate di modestia ma io devo confessarvi una cosa quest'estate quando abbiamo fatto Carosello Live a Castiglioncello è stata una serata veramente bella io ho visto Pavolini tra il pubblico in alto questa figura un po' mitologica dice ma che cazzo ci fa Pavolini a Castiglioncello era inspiegabile questa cosa cioè c'è gente che è partita dalla Romagna ha attraversato l'Italia in bicicletta giuro è tutto vero ma Pavolini per me era inspiegabile poi ho scoperto forse non tutti sanno che vai avanti poi ho capito tu eri venuto a Castiglioncello non ti fregava un cazzo della nostra puntata tu sei venuto a questuare la prefazione di Giovanni Bocciartelli al tuo cazzo di libro vero perché quella serata si è consumata la richiesta quella serata si è consumata la richiesta la verifica che lui avesse scritto una cosa che avevamo concordato mesi prima e che lui non aveva scritto cioè sei venuto a prenderla fisicamente sta prefazione noi via reggini siamo un po' così cioè prima c'è lo scambio di mail poi c'è chiaramente il momento io gli ho detto ovviamente ce l'ho di là diciamo però siamo qui seriamente per presentare questo libro che si intitola Unframing come difendersi da chi può stabilire cosa è rilevante per noi che è un'opera terza quarta di Antonio Pavolini su un tema che è caro a tutti cioè sul rapporto che abbiamo tra le informazioni il sistema dell'informazione e i vari intermediatori che ci sono quindi io ti chiederei Antonio per incominciare un po' la conversazione fra di noi di spiegarci questo concetto di Unframing che come parola dell'anno proposta da Paolo diventa in italiano scorniciare no cioè perché dobbiamo cominciare a scorniciare cose no perché ci dovremmo fare scorniciatori di cose però scorniciare per sempre credo è bellissimo intanto mi pregherei vi pregherei di apprezzare il fatto che alle mie spalle ci sono due quadri di mia madre senza cornice no questo per coerenza e Unframing è più materia tua questa Giovanni perché è una delle ultime ragioni del concetto diciamo di agenda setting quindi è un tema accademico agenda setting bene o male sappiamo che cos'è la capacità del sistema dei media di imporre certi temi rispetto ad altri il framing e non Unframing il framing è la capacità anche di imporre un'angolazione su un certo fatto l'esempio che io faccio all'inizio del libro prova a spiegarlo e cioè a un certo punto arriva Carola Racchete con la sua imbarcazione Sea Watch con 40 migranti sul porto di Lampedusa questo è un tema comodo per il racconto dei media perché funziona e comodo anche alla politica e quello è l'agenda setting però il problema è che nello stesso momento quel problema degli sbarchi si stava verificando su altre decine di spiagge italiane siciliane anche e non c'erano telecamere non c'erano palchi non c'erano microfoni perché tutto doveva svolgersi sul palco dove Salvini doveva rivendersi come l'uomo che chiude i porti l'uomo che ferma le signore radical chic che fanno sbarcare illegalmente i migranti sulle nostre coste e quindi diciamo che per due settimane anche avendo accesso a quella macchina dell'informazione che avrebbe anche una missione pubblica poi magari di questo parleremo e non solo un'industria non dovrebbe essere solo un'industria in quelle due settimane chi voleva sapere che cosa fosse rilevante per la propria vita aveva una risposta ed era quella che in coro tutti i media riversavano nelle nostre teste intanto stavano succedendo tante altre cose un po' nel libro ne parlo ma non è semplicemente la solita storia lasciatemi dire del si parla di questo in modo che non si parli di quest'altro soprattutto non la voglio giustificare quei complottismi di tipo politico dico semplicemente che si sceglie anche il racconto che funziona economicamente per un'industria che è quello che riesce a convogliare l'attenzione delle persone questo è il punto e penso che sia il punto che interessa maggiormente anche Paolo cioè il fatto che ci sia una logica editoriale che abbiamo assorbito in quanto operatori della comunicazione giornalisti eccetera cioè diciamo tutti quelli che intermediano rispetto alle informazioni e che ha a che fare con la capacità di attirare attenzione e click e che è un certo modo di raccontare le notizie no? a Paolo capito? volevo con te approfondire con te e lui anche questo tipo di dimensione cioè quanto il mestiere del comunicare sia passato nel tempo ad assoggettarsi sempre di più ad alcune dinamiche come ad esempio sappiamo dinamiche che portano a clickbaiting o cose di questo tipo che fanno parte di questa cosa del framing di cui in qualche maniera parla Antonio io se posso aggiungere prima di lasciare la parola ad Antonio devo confessarti un certo disagio no? come qua parlo proprio del mio mestiere della mia professione cioè io quando leggo un framing ma in generale quando leggo pensieri così raffinati intorno all'industria del giornalismo ho detto industria del giornalismo perché di fatto di questo si tratta anche se Antonio parla di una vocazione pubblica che è venuta meno evidentemente io vivo tutto questo con un grande senso di colpa da pubblicitario intendo cioè è come se noi non fossimo riusciti a incorniciare un modello di business quello della notizia con l'obbligatorietà di affiancare a questi oggetti della pubblicità per il loro sostentamento e temo che il digitale abbia imbastardito tutta la vicenda no? e questo tu non è che glielo mandi a dire cioè voglio dire poi tu nel digitale ci sguazzi e questo credo che sia il vero caso sbelli no? perché alla fine qualcosa si è smarrito gioco forza e io vivo tutto questo con un grande lasciatemelo dire davvero senso di colpa ma lo dico come creativo ma anche come giornalista cioè per quanto il mio essere giornalista sia un essere giornalista voglio dire non professionista eh però comunque è un obiettivo che mi ero dato e che ho e che ho raggiunto io questo questo disagio oggi lo sento e lo sento a maggior ragione quando oggi la maggior parte dei progetti che firmo pubblicitari sono orientati all'area dei contenuti e quindi ci sono dei confini flebilissimi e sottilissimi bisogna camminare veramente su un filo per distinguere ciò che è brand journalism che viene chiamato così Antonio non te la prendere con me lo so che fa orrore ma viene chiamato così e dall'altra dall'altra parte invece il giornalismo l'autorialità vera della firma del commento del reportage bla 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 quindi io volevo confessarvi questo disagio dentro unframing e vi chiedo scusa però vengo in pace ecco volevo dirvi che la pubblicità è anche una gran bella cosa che i giornalini hanno anche un gran bisogno però tu adesso lascio la parola a Antonio perché il programma lo facciamo noi quindi parliamo quanto ci pare e stupiamo anche gli autori e gli obbietti perché stiamo primi di ogni appunto senso della dignità volevo rilanciare dicendo che è evidente che quello che dice Paolo secondo me è importante perché è come se tu dicessi fondamentalmente non siamo neanche riusciti però a costruire un mondo in cui è possibile rendere compatibile un discorso etico eccetera anche con un sostenentamento dal punto di vista comunicativo e pubblicitario perché no cioè è possibile coniugare due cose cioè non è perché dobbiamo pensare era così c'era una volta era così però la cultura la cultura pubblicitaria che tende a catapultare gli occhi grandi masse di eyeballs delle persone in spazi chiusi che dovrebbe essere integrata naturalmente con la capacità di vendere la qualità del prodotto come è stato per tanto tempo questa cultura pian piano si è mangiata anche ciò che chiamiamo giornalismo ed è successo soprattutto perché se guardiamo la storia dei grandi conglomerati le aggregazioni economiche che hanno formato queste società sempre più grandi alla fine era sempre il venditore di spazi a comprare il pezzo editoriale e mai viceversa e questa cosa sta succedendo anche nell'editoria diciamo dei libri perché se pensiamo che soltanto 7-8 anni fa Random House si è mangiata Pearson e adesso proprio di questi giorni l'acquisto anche di di un'altra importante casa editrice però media piccola che aveva una grande libertà la Simon & Schuster allora c'è un pezzo di The Atlantic uscito oggi che ho condiviso su Twitter che racconta che questi processi di aggregazione vanno sempre meno nella direzione della vendita della qualità del contenuto e sempre più invece verso l'omologazione la concentrazione di occhi di milioni di persone più o meno sempre sulle stesse cose poi volevo anche rispondere a Paolo quando diceva che il brand journalism non è una parolaccia assolutamente io per primo al festival del giornalismo di Perugia qualche anno fa insieme a Chieffi presentavamo un libro proprio sul brand journalism di Carlo Fornaro se non sbaglio di Omira Cerramo Cerramo scusate in cui dicevo no no va benissimo parlare di brand journalism tra di noi tra detti e lavori che sappiamo che cos'è venderlo al pubblico come brand journalism comincia ad essere un po' più spinoso perché non sono sicuro che le persone abbiano appunto quel grado di media literacy necessario per distinguere i confini molto labili di cui parlava prima Paolo vedo una manina alzata di Giovanni gli lascio volentieri no no dicevo che è vero però che abbiamo è possibile anche che i brand l'abbiamo visto molte volte finanzino progetti di giornalismo con una che sono fatti bene che sono indipendenti eccetera però c'è sempre cioè è ovvio che anche noi come pubblico abbiamo una specie di pregiudizio rispetto al fatto che ci è come se fosse uno simolo a mettere insieme un brand un prodotto pubblicitario e un oggetto giornalistico è come se le due cose non potessero stare insieme perché una cioè la pubblicità eccetera falsifica immediatamente l'altra cioè mostra che è come dire la rende meno pura non che sia più pura quando è all'interno di un qualsiasi tipo di contenitore perché comunque il contenitore si sostiene con la pubblicità eccetera però quando lo vediamo ci sembra troppo sfacciato allora una grande azienda che si occupa di energia che sviluppa un progetto di giornalismo guarda caso senza menzionarlo senza menzionarlo facendo una cosa o una banca che progetta un progetto che lancia un progetto e sostiene non so un racconto dell'innovazione in Italia del futuro dell'innovazione in Italia eccetera cioè quegli oggetti lì quegli oggetti editoriali visto che poi molti di noi ci si confrontano magari scrivono anche per questi progetti perché credono nel progetto è meno puro è per questo che mi chiedo oppure che soluzioni abbiamo perché quando è che è cominciato a rompere possiamo superare un po' il problema del puro e dell'impuro e arrivare invece al problema di dove si fanno i ricavi dico solo questa cosa mi faceva molto ridere mettere unframing dentro una tornice di powerpoint e devo farmi stare questa cosa a sua volta è un pezzo di uno screenshot del telefono si vede chiaramente dalle icone di android che si vedono si vedono sulla destra questo è solo l'innovazione dell'android e di favolini sapete che in questo momento Sergio Stenco si è scollegato vero cioè schifato da questa artigianalità dal peccionismo peccionismo so per certo andate per superare un po' l'equivoco della purezza io vorrei citare la frase di Emily Bell che dirige il Tao Center for Journalism per la Columbia University e dice che non sappiamo ancora quali saranno i modelli economici del futuro una cosa è certa non potremo avere mai giornalismo al 100% libero se sarà finanziato solo dalla pubblicità io sono perfettamente d'accordo con lei però vedete il problema secondo me non è tanto il fatto che un brand finanzi un grande progetto di giornalismo se tutto è fatto in modo trasparente il problema è ciò che poi con questo nome con altri nomi diversi native advertising il corporate generated content alla fine se vai a vedere si vendono spazi ancora una volta dove poi qualcuno con una manina dice che cosa ci va lì dentro e questo succede spesso anche per colpa delle aziende che contabilmente proprio nel momento della ripartizione dei budget dicono ah ok questa è pubblicità lo metto qui e lo fanno fare a chi ha sempre comprato spazi pubblicitari e quindi il problema è che magari l'innovazione editoriale anche tecnologica che l'abilita può essere molto rapida ma se il fenomeno umano della professionalità non ha la stessa rapidità e anche le aziende che ragionano spesso in modo lento finiamo per chiamare A una cosa che è tragicamente spesso ancora B detto questo io penso che i nuovi modelli debbano ricominciare a remunerare il contenuto c'è stato un momento in cui tu compravi la felicità economica di un gruppo editoriale nasceva dal fatto che le persone compravano un giornale perché aveva i contenuti migliori questo lasciatemi dire nel mondo per esempio dei vecchi giornali di carta ancora in larga misura succede se andiamo a vedere i bilanci dei gruppi editoriali scopriamo che i quotidiani ancora hanno una quota di ricavi che viene dalla vendita del contenuto che è ancora molto importante rispetto alla pubblicità il problema è che ormai nel frattempo anche il giornale quello classico sente subisce così tanto la concorrenza di spazi di luoghi dove si posano i nostri occhi i mille schermi la radio la televisione e gli schermi naturalmente come questo il famoso android di Pavolini subendo questa concorrenza ragionano sempre più in questo modo tant'è che io ho sentito l'altro giorno anzi non l'altro giorno un paio di mesi fa prima dell'ultima ondata del covid all'auditorium al festival se non sbaglio dell'economia il nuovo direttore di Repubblica Molinari dire che Repubblica deve diventare una casa di produzione diciamo di entertain non ho usato questo termine una casa di produzione cinematografica che ha usato questo termine il che significa sempre più narrazione se ci pensate sempre meno informazione io non ho nulla contro la narrazione finché tu dai alle persone gli strumenti di capire dove finisce la narrazione e dove comincia una cosa che si chiama giornalismo e che per me è dare alle persone strumenti e per farsi una propria idea sulle cose ecco ci sono troppi narratori e pochi informatori questo è una dimensione interessante volevo sentire anche da Paolo cosa ne pensa perché diciamo l'idea di avere una news company si è sempre più allargata attorno diciamo alla dimensione dell'informazione cioè usare l'informazione come strumento narrativo anche per altri tipi di oggetti ricordiamo che Repubblica per esempio ha cominciato facendo un cioè ha cominciato ha fatto anche un festival che racconta i propri protagonisti oppure appunto si producono libri attorno al tema giornalistico o anche oggetti di tipo collaterali alcune sono hanno radio fanno informazioni intrattenimento fior di podcast come veleno per esempio che è un grandissimo prodotto è un grandissimo prodotto bellissimo faccio un inciso solo sul podcast prima di dare la parola a Paolo avete visto questo microfono che ha Paolo che è un microfono professionale vorrei che tu una precisione provo a avvicinarti con la voce fai sentire diciamo l'oggetto come funziona come va funziona in questo modo nel senso che è talmente preciso che più ti avvicini più puoi abbassare la voce più la tua voce diventa questo è il momento di Caroselli questo è ci ha permesso di sviluppare una teoria dell'unframing noi abbiamo stasera nel fuorionda abbiamo scorniciato la sublimazione del podcast cioè non è vero che il podcast è esploso i podcast non se li fa in fila nessuno ma in tanti registriamo podcast perché questa cosa di avere questi oggetti così vicino alla bocca è un po' fallica è un po' atavica e a noi piace tantissimo questa dimensione radiofonica che quindi noi registriamo sono esplosi perché c'è tanta gente a cui piace registrare ma nessuno che ascolta quindi abbiamo scorniciato il podcast in un fuorionda e questa cosa a Giovanni è piaciuta molto e quindi secondo me contribuirà anche al successo di unframing e probabilmente ci sarà io non fatico a credere che ci sarà un unframing due spero che l'editore sia collegato proprio dedicato al giornalismo audio dove questa dimensione puramente donistica tu Antonio sei l'unico in Italia che la può finalmente certificare ma io ti volevo chiedere una cosa se tu guardi non so se in Italia più forse a livello internazionale c'è un modello di giornalismo in questo momento realmente unframing come piace a te come scrivi tu dove la la vocazione la vocazione pubblica di questo mestiere coincide con logiche di mercato che non possiamo voglio dire tacere per ovvi motivi non facciamo i boy scout e insomma e tutto questo si combina in una cornice ideale per te insomma allora dove il digitale l'analogico capito dove senza allontanarmi troppo diciamo a cercare modelli con i fuochi d'artificio ci sono dei modelli affermati poi anche con problemi economici però sono affermati nel senso che tante persone posano i loro occhi su questi luoghi e che vendono la qualità del contenuto faccio l'esempio del New York Times nel libro e faccio l'esempio del New York Times che va bene economicamente faccio l'esempio invece del Guardian che non è a pagamento però vende comunque la qualità del contenuto si fonda su vari livelli di invecinatismo quindi tu puoi anche non pagare però comunque quello che vende è la qualità del contenuto ecco questi sono due modelli di riferimento qual è il problema il problema è che il New York Times ha quasi cannibalizzato tutto il resto in questo modo cioè sembra quasi che ci sia spazio per uno solo che fa così che fa un paywall dove i primi dieci articoli che vedi gratuitamente sono così perfetti che poi dici ok mi abbono che è esattamente il contrario di quello che succede con i paywall italiani dove le cose gratis che vedi che dovrebbero invogliarti ad abbonarti sono informazione diciamo usando il termine più gentile che mi viene infotainment e quindi allora questo è un primo no vabbè ma guarda che come dire l'infotainment è un mestiere nobilissimo ok nel senso che chi lo incarna io penso sempre a Lily Gruber come la regina dell'infotainment è una grandissima professionista non c'è nessuno o anche Mentana se ci pensate che è riuscito a tenerci gli occhi durante la crisi di governo sulle sue maratone senza dire una sola notizia perché le notizie arrivavano solo fuori dalla porta di Mattarella quando questi raccontavano l'incontro col presidente della repubblica tutto il resto era retroscena ma era falso tutti i giorni tu potevi negare tutto e far balenare qualsiasi ipotesi ma lui è un genio dell'infotainment perché in questo modo riusciva a tenere a farti tenere gli occhi legati lì a quel momento in cui appariva che cosa il riso senza lattosio fondamentalmente che era ciò che teneva in piedi tutta quella proposizione di valore quindi l'infotainment non va diciamo criminalizzato però va contestualizzato bisogna che le persone si rendano conto quando guardano una cosa che magari si chiama il telegiornale quando si stanno intrattenendo e quando si stanno informando in questo momento questo non succede e anche le politiche pubbliche che sovvenzionano per esempio i quotidiani sembrano non fare troppa distinzione quando quando sovvenzionano quotidiani che fanno solo infotainment o qualsiasi diciamo impresa editoriale che fa questo lo fa magari benissimo rispetto praticamente dando automaticamente del perdente in questa che è l'unica competizione possibile quella di presidiare l'attenzione tutti quelli che provassero a fare non dico il New York Times ma almeno valigia blu ok ma almeno lo news Antonio questo ci porta a un tema che tu scusami posso chiedere posso chiedere alla regia no chiedo solo a Valentina di mettere il link a valigia blu perché è uno dei progetti più intelligenti che abbiamo in Italia su questo fronte quindi credo che noi amiamo tutti molto e anche lì c'è il momento crowdfunding per il progetto valigia blu quindi anche quello è un altro ditino che potete utilizzare dicevo Antonio io volevo usare le tue parole di questo libro che non so se è stato scritto perché non abbiamo una copia di carta quindi continuo nel dubbio ma se fosse stato scritto tu avresti scritto una cosa come questo se davvero vogliamo cercare una via d'uscita non è sufficiente affrontare il tema di cosa potrebbe o dovrebbe fare l'industria dei media per invertire la pericolosa tendenza in atto è altrettanto importante cercare di capire in che modo potrebbe nel frattempo cambiare il comportamento di ognuno di noi e in particolare il modo con cui ci relazioniamo con il prodotto mediatico cioè il tema è quello ok media noi allora ti volevo chiedere perché fare la responsabilità dei lettori degli ascoltatori del pubblico cioè non possiamo fare qualcosa da questo punto di vista visto che abbiamo parlato solo dell'altro non possiamo aprire una linea di credito infinita alla nostra editoriale aspettando che loro trovino una soluzione che all'improvviso dall'oggi a domani ci ritroviamo l'inchiesta del Watergate che ci tiene incollati con una vera notizia per noi ok per lungo tempo senza che poi il giorno dopo invece ci sia subito la velina il cacciatore il giorno dopo ancora Renzi che fa la Ice Bucket Challenge cioè sfuggire al New Cycle ok allora cosa possono fare intanto le persone allora io con una bieca operazione commerciale dico no se vado in libreria con il solito libro che parla l'industria dei media soltanto giustamente me lo tirano in testa cerco di renderlo un po' più manualetto e questo succede anche alla fine non arrivo alle meraviglie di Mafia e Bajis che ha scritto davvero 15 lezioni per il digitale in tutto il suo libro no arrivo semplicemente alla fine a dire sì ok però tu dopo aver detto tutta questa grande cosa che magari potremmo anche essere d'accordo ma noi nel frattempo cosa possiamo fare io credo che se una persona ha comprato e letto questo libro fino al capitolo 2.5 cioè il decimo capitolo probabilmente è disposta anche a a dire ma proviamo a comportarci diversamente con i mezzi che abbiamo con quello che c'è adesso e qualche qualche qualcosa si può fare io non voglio dire quale deve essere la vostra dieta mediatica assolutamente ho qualche suggerimento ci sono una serie di di cose che dico per esempio secondo me la più importante è imparare a invertire il flusso cioè noi in modo troppo pigro siamo abituati comunque a fare nella vita del mondo degli atomi non la voglio chiamare la vita reale assolutamente nel mondo degli atomi come diceva Luca Conti secoli fa voglio fare delle cose che decido io e che non mi vengono suggerite da questo schermo una volta che le ho fatte poi dopo è fondamentale usare questo mezzo straordinariamente potente ok per trovare la dimensione documentata e partecipata di tutto quello che ho trovato negli spunti quotidiani quindi per intenderci quando nel libro si parla parecchio del rapporto con i musei con la cultura no? piuttosto che andarsi a leggere la presentazione della mostra che andremo a vedere piuttosto che scaricarsi l'audio guida sono tutte cose bellissime che si possono oggi fare prima di andare al museo però anche andare al museo a digiuno e poi usando non dico le applicazioni come Google Lens ma semplicemente fotografando il quadro che puoi approfondire a casa e trovare i tuoi percorsi ecco questo già inverte completamente il flusso non c'è stato nessuno a parte forse il curatore del museo in buona fede che ha detto che cosa è rilevante per noi in quella esperienza siamo noi che abbiamo definito i nostri percorsi questo chiaramente non risolve tutti i problemi però se ci pensate anche nell'informazione in questi giorni ricorre il cinquantennale del golpe borghese ok per fortuna ogni tanto ci sono le ricorrenze e ci ricordiamo quanto siamo stati vicini a una situazione di tipo greco o una situazione tipo Cile con Pinochet e il bombardamento di Salvador Allende ecco siamo andati abbastanza vicini a quella situazione la narrazione di quegli anni narrazione non informazione tendeva a ridicolizzare quello che è successo c'è stato anche il film vogliamo i colonnelli a distanza di cinquant'anni abbiamo capito che forse invece siamo andati molto più vicini anche perché c'era un contesto internazionale che lo giustificava ecco io ho approfondito molto cosa ho fatto sono andato su RaiPlay mi sono rivisto tutta la puntata di Zavoli della Notte della Repubblica perché l'ho deciso io ok non c'è stato un come dire una recommendation del device che mi ha detto quello che dovevo fare questo significa ogni tanto fermarsi alzare gli occhi al cielo e mettere insieme due neuroni interrompere questo drammatico flusso questo new cycle che è lo sforzo principale che dobbiamo fare io credo che tra me Paolo e Giovanni queste cose è abbastanza come dire siamo abbastanza in grado di farlo un numero secondo me maggiore di persone tutti i giorni impara a farlo senza leggere un libro come il mio francamente ma banalmente imparando a scoprire cose per conto per conto proprio soprattutto le giovani generazioni se vediamo quello che riescono a fare su tiktok per esempio di cui Paolo è sicuramente un grande esperto su tiktok non si subisce almeno fino adesso un flusso diverso dai grandi trend dei tuoi coetanei che fanno altre cose una specie di grande meme che si rigenera continuamente e infatti si vedono cose molto interessanti su quella piattaforma fino a quando fino a quando si troverà il modo di come già qualcuno pensa di fare di inglobare pure quella bene e sì peraltro vi do notizia che tiktok la piattaforma ha fatto circolare da almeno un paio un paio di mesi ormai una straordinaria guideline per andare dentro i loro canali con advertising a manetta format preconfezionati quindi sai alla fine alla fine il modello sostiene questo il modello sostiene questo quindi io credo che discovery versus search vince per ora nettamente il discovery io ho un'idea che è ancora collegato l'editore c'era è comparso beh io Antonio guarda vi regalo un'idea cioè gratis questa voi dovete fare ma lo dico guarda sono abbastanza serio unframing for kids cioè voi dovete fare una riduzione di questo di quello che tu hai scritto voi dovete fare una riduzione per fare media education non tanto questo è un libro inarrivabile per un bambino per un ragazzo forse il fine ciclo di media superiore ma credo che già mio figlio probabilmente gli sanguinerebbero gli occhi e mi odierebbe se glielo regalassi in questa fase della sua vita però cacchio le cose che dici l'educare a non subire il il new cycle ma a come dire reagire questi sono i temi dell'educazione dell'educazione della media education che devono essere portati però non tanto a livello accademico perché lì vi piace vincere facile ma secondo me dobbiamo portarli a un livello più basso cioè dobbiamo cercare di entrare con dei progetti di questo tipo dove si insegna a guardare la tv si insegna a guardare sacro santo aggiungo però che anche l'esperienza d'uso senza che qualcuno scriva il manuale scriva le regole se qualcuno inventa un'app come google lens google lens è già un'applicazione inverti flusso tu fai una foto o un oggetto io non sono un tecnodeterminista non dico che questo risolve il problema dico però che la tecnologia non è neutra e se un ragazzo comincia a fare la foto all'albero alla statua al palazzo al monumento alla foto del personaggio pubblico per capire chi è e trovare la sua dimensione documentata ma perché lo ha deciso lui invertendo il flusso e c'è un'app che lo aiuta a fare questo e io spero che come google lens ne nascano tantissime altre già questo può fare moltissimo fermo restando che naturalmente google lens è un'altra di queste piattaforme e quindi non è laica e questo lo sappiamo no provo a mettere insieme le due cose io sono molto d'accordo con con paolo è che è una cosa su cui ci troviamo molto spesso anche su dei progetti ci è capitato cioè c'è bisogno anche di costruire una nostra narrazione diversa del del flusso fondamentalmente per cui molto spesso anche i più giovani sono stati familiarizzati per esempio al digitale o alle informazioni o alla ricerca di informazioni come dire più sul lato come dire del del di fruire di una forma di intrattenimento no quindi anche nella ricerca attiva cioè comunque ti fai prendere dall'affascinazione di guardare dei video su instagram che fanno da tutorial oppure lasci andare l'algoritmo di youtube eccetera invece come dire sviluppare delle pratiche però appunto come diceva anche anche paolo che forse l'oggetto non ha detto che sia il libro cioè quindi unframing for kids ma una serie di pratiche no no unframing for kids era una provocazione il titolo me lo rubo volentieri ma per fare magari google lens è una delle cose che possiamo fare quante altre sono nel racconto che allora solo che andrebbero prese portate scaricate a basso e mostrate fate mostrare fate viaggiare via peer ma semplicemente per aumentare la dieta è una cosa che diciamo sempre a tutti piacciono i dolci ma sappiamo benissimo che se mangiassimo sempre i dolci è bellissimo anni fa quando in Italia arrivò la campagna sulla bellezza autentica di DAV giusto per riportarvi a un parallelismo che conosco in profondità e su quale posso portare un contributo uno dei progetti per lanciare quella campagna un progetto di impatto era proprio media education nelle scuole inferiori medie inferiori e anche medie superiori per insegnare insegnare insomma guardare la televisione in in classe e riconoscere stereotipi cliché tutti quei topos diciamo che poi portavano alla alla disistima delle ragazzine che vedevano da una parte Ambrangiolini e tutto il il veliname alle sue spalle non so se ve lo ricordate insomma ecco il non è la rai di quei tempi e sai per una ragazzina di 15 16 a 7 anni doversi rapportarsi a quel modello diventava estremamente frustrante e non gli puoi dire spegni la televisione devi come dire guidarle accompagnarle in una lettura di quell'oggetto che gli insegni esattamente quello che dicevi tu Antonio a invertire il flusso e a diventare più critica rispetto a quello che sta guardando allora per questo un progetto come il tuo ovviamente incorniciato in un in un disegno scusami va così in un disegno più ampio può diventare progetto educativo perché a me vedere la lettura del quotidiano in classe così come viene fatta in questo momento è veramente frustrante ma veramente frustrante una volta che abbiamo imparato gli occhielli le colore cosa ci diciamo più cioè la lettura di un quotidiano in classe analogico o digitale che sia secondo me deve portare esattamente il tuo sguardo io e Nicola prendiamo appunti poi naturalmente se ci siete anche voi secondo me riesce molto ma molto meglio io ti vorrei fare un'ultima domanda prima di cacciarti perché noi come ospiti di casa poi a una certa ora andiamo a lecce comunque abbiamo letto prima facciamo un po' come ci pare però succede anche qui stranamente dopo Carosello dopo Carosello dopo Carosello che è importante per me io vorrei sapere perché hai scritto questo libro ah che bella domanda anch'io anch'io ce l'avevo me l'hai rubata sei uno stronzo allora io prima dico la cosa che mi posiziona mi fa fare bella figura mi rende appetibile per i dittori molto più ricchi del mio eccetera poi dico la verità allora è chiaro che oltre il rumore che è il libro precedente che ho scritto era un po' la scilopsia della situazione quella cosa che uno si tiene in panna per tutta una vita un buon successo non numerico ma diciamo dell'indice di gradimento proprio per quello perché molte persone ci hanno riconosciuto un po' il mio modo di parlare di queste cose qui ho cercato di fare una cosa un po' più da analista perché io forse non tutti lo sanno ma per un po' ho proprio preso lo stipendio dalla mia azienda per fare l'analista nella industria dei media poi ho continuato per conto mio quando ho cambiato mestiere nella mia azienda per lavorare invece con enti di ricerca di vario tipo allora questo cerca di essere un libro un po' più più strutturato che ferma per rispondere seriamente alla tua domanda dico ferma un momento nella transizione digitale dell'industria dei media e soprattutto cerca di far emergere una cosa non è più quella reazione folcloristica di rifiuto a prioristico del digitale che poteva esserci cinque anni fa quando ho scritto oltre il rumore adesso l'industria ha capito che può ancora esercitare una leva fantastica che è quella di stabilire che cosa è rilevante per le persone a un certo punto temeva ad averlo perso cioè temeva che i vari facebook twitter eccetera di over the top avrebbero sostituito anche questo perché non è successo o meglio si sono presi in carico solo l'automatizzazione di questo news cycle per poi trasformarlo in ricavi però fondamentalmente su facebook ancora discutiamo delle cose decise soprattutto da giornali televisioni radio eccetera e sul successo perché il mondo delle piattaforme digitali ha capito che non ha alcun interesse ad assumersi la responsabilità dell'editore anzi tutte le volte che glielo dico guarda che tu stai diventando un editore loro hanno quest'area contrita e dicono no noi siamo solo piattaforme tecnologiche perché non vogliono essere responsabili dei contenuti e soprattutto non hanno nessun interesse commerciale visto che fanno soldi appalate anche solo facendo girare la ruota del criscetto come sappiamo e allora la vecchia industria questo è quello che volevo fare emergere perché l'ho scritto volevo fare emergere che la vecchia industria ha capito perfettamente che fa ancora questo si è rinnovata fa i festival fa le narrazioni fa i podcast ma è ancora la vecchia industria a stabilire che cosa è rilevante per noi e questo è un potere straordinario negoziale economico politico riguarda i cda delle imprese editoriali riguarda chi investe in pubblicità e chi no cioè riguarda grandi cose che succedono lontano dagli occhi delle persone io volevo fare emergere questo quindi questo è lo scopo diciamo che serve per farmi fare bella figura la verità la verità è che a me piace fare le presentazioni dei libri e andare poi a bere con gli amici quindi quando ho fatto il rumore c'è stata una sequenza di una però si poteva uscire di presentazioni bellissime con persone che mi dicevano ah che bravo Antonio che bel libro che hai fatto poi si andava a bere ci ubriacavamo e tornavamo a casa temo di dovervi informare che anche un framing l'ho scritto esattamente per lo stesso motivo quindi quando vi dite questi progetti meravigliosi eccetera ambiziosi da un lato non sono sicuro di essere all'altezza e per questo chiedo la vostra collaborazione punto primo e punto secondo attenzione che certe volte uno scrive anche per stare insieme alle persone a cui vuole bene ah guarda sfondi sfondi una porta aperta diciamo che e noi leggiamo per stare insieme alle persone a cui vogliamo bene cioè quindi vedi che è reciproco cioè è un po' al foro lo faccio anch'io leggendo libri come quello di Giovanna quello di Mafe quelli di Giovanni con la I insomma sono e quello di Paolo io ho letto Invertising dieci anni fa è un libro potrebbe uscire domani lo sto riscrivendo lo sto riscrivendo la mia familiarità con la tematica del podcast e la presenza di questo microfono nel mio studio è proprio perché io sto quello che hai detto tu hai appena finito di dire e mi è stato detto anche dall'editore quindi lo sto riscrivendo con la voce rileggendolo e attualizzandolo no 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 vedi come no non è un audiolibro non è un podcast è una è una roba ibrida è un casino è assolutamente inascoltabile però però posso dire una cosa posso spazzare una lancia o una lancia ma certo no io sto scherzando in realtà io sono un fan del podcast e credo prima ondata visto che questo è nel DNA di Antonio il podcast diciamo è un no sì no per quello quando facevo la prima ondata come il covid c'è stata la prima ondata 2005-2006 e io lì ho fatto svariati podcast sia come autore sia anche come produttore di altri molto più bravi di me a parlare in un microfono in quella fase non c'era i profoni non c'era il rode non c'era il Sennheiser non c'erano tutti ad hoc o ti compravi il pasteca della Rai fatto da un'azienda artigianale Vicentina quello che Marcello Giannini quando annunciava l'alluvione del Polè oppure oppure rifregato dovevi usare il trust da 10 euro del supermercato io con il trust da 10 euro del supermercato penso di avere anche rotto il linguaggio radiofonico in quegli anni e so bene che le decine di migliaia 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 ci hanno tirato giù dalle top 10 di iTunes ecco oggi invece la seconda ondata somiglia molto di più alle newsletter somiglia molto di più al personal branding somiglia molto di più a quel meccanismo un po' egotico di cui parlavi prima però lasciami dire che quel meccanismo egotico mi dispiace di dirlo ma non riguarda il microfono riguarda odore della carta perché scrive libri riguarda quando sentiamo i decani del nostro giornalismo parlare ai festival parlano soprattutto di se stessi sono tutti Gianni Clerici wannabe senza essere Gianni Clerici no no io sono d'accordo che ci sia una cioè io prima estremizzavo ma perché c'è una componente secondo me idonistica della vicenda che non credo vada sottovalutata sto vedendo studi di registrazioni podcast che farebbero invidia a radio di gente sì anche però io sono un tifoso della newsletter fatta bene e quindi mi disiscrivo con la stessa facilità con cui mi scrivo quindi l'altro giorno ho commentato a questa vicenda proprio dicendo che alcune newsletter sembrano come dei disamori come degli innamoramenti ormai finiti no cioè quando la relazione un po' comincia a venire meno alcune newsletter mi fanno un po' quella tristezza lì e quando scatta quel meccanismo siccome rompere disiscriversi è più facile che rompere una relazione allora è un click e arrivederci no invece io ti volevo fare un'ultimissima domanda se Giovanni me la concede certo dovendo scegliere in questo preciso istante cinque copie di unframing da regalare per sperare in un impatto di cambiamento cioè tu dici se questa roba la leggono questi cinque qualche chance ce l'ho a chi la mandi a chi le mandi la risposta a questa domanda forse dovrebbe darla a gelugoli che disse appunto di oltre rumore disse questo è il libro che non verrà letto da chi dovrebbe leggerlo a me piacerebbe piacerebbe che unframing fosse letto da un Marco da Milano per esempio che è un grandissimo narratore ma sempre meno giornalista mi piacerebbe che venisse letto Diego Bianchi per esempio che conosciamo tutti personalmente e che secondo me ha le orecchie abbastanza fine per per trarne qualcosa di buono mi piacerebbe che venisse letto ma vediamo usciamo anche un po' dal mondo del giornalismo mi piacerebbe che venisse letto anche da qualcuno che fa investimenti nelle aziende da qualche da qualcuno che ha il piano mezzi in mano per dire ma andrà sempre avanti così arriverò alla pensione occupando spazi impedendo ad altre persone e poi ecco mi piacerebbe venisse letto nel mondo dei musei per esempio da Giovanna Melandri con cui siamo amici su Twitter e che come sapete gestisce dirige il Maxi e visto che mi è rimasto un quinto nome mi piacerebbe che fosse letto da Luca Bergamo che ho conosciuto l'assessore vice sindaco di Roma ma assessore alla crescita culturale che ha fatto cose straordinarie secondo me a Roma negli ultimi anni nonostante Virginia Raggi perché si riescono a fare cose molto belle anche nonostante un sindaco secondo me non all'altezza grazie se ci fosse un libro di carta da potergli spedire ovviamente no certo evidentemente mandare il pdf lo dico a beneficio dell'editore mandare il pdf è proprio qualificante potrei mandarlo in flash sarebbe stato ancora più vince sì certo ma anche via MMS volendo proprio ascoltate Antonio grazie saluterei Antonio lo ringrazierei per lo ringraziamo per le cose che ha detto spero che poi Carouselers Back funziona così le persone lo vedono in diretta altri se lo riascoltano altri lo usano come podcast anche se c'è un video mentre vanno non lo so a lavorare o cucinano grazie Antonio noi ti salutiamo e in bocca al lupo per le altre presentazioni speriamo poi di poterne fare una dove ci alla fine ti offriremo ci offriremo da bere mi permetto la location sarà a Castiglioncello quindi così per recuperare questa circolarità eccetera ci vedremo l'estate prossima e ci vedremo in in anfiteatro a presentare unframing beach edition diciamo così che bello grazie Antonio grazie hai proprio preso cioè perché ci scade scade a tutti il tempo del Carouselers Back noi vi diamo appuntamento per il prossimo giovedì sempre alle 9 di sera con restate con noi restate con noi con un altro con un altro libro vorrei mostrarlo perché questo ce l'ho di carta è arrivato e quindi Giovanna Cosenza eccolo qua ah bello 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 sì sì è arrivato a cambiare che è un libro che presenteremo questo è quello dell'altra vedi che un po' li presentiamo tutti da stasera abbiamo introdotto le 5 comparse della copertina all'interno del programma che sono state fatte per Antonio verranno fatte per chiunque quindi chiunque viene sa che ha garantite 5 presenti della copertina mentre si parla questa è un po' regolata da questa sera è per quello che ogni tanto compariva in powerpoint hai proprio studiata questa cosa cioè tu vieni e hai 5 passaggi pubblicitari che mi sembra fondamentale insopportabile è certo che veniamo in Sardegna insopportabile noi facciamo partire un tour l'estate prossima per cui toccheremo un tour però balneare cioè noi si va solo dove c'è il mare quindi si intitola si che ha un'assonanza meravigliosa scrivetelo bene scrivetelo bene esatto va bene ciao GBA buona serata buonanotte buonissimo fine settimana ciao a giovedì prossimo sempre alle 9 sempre alle 9